Non niente da fare a un film distratto e al tuo nuovo gatto Milano a pranzo fuori eh Ma c'è teori più di quando salgo a Milano? Ho una domanda cattiva Vai Claudia, te lo faresti George? Chi è Claudia? Adesso vedremo chi è Claudia Aspettiamo che li sto scrivendo a che punto sei Allora Intanto volevo salutare tutte le nuove persone che mi stanno iniziando a seguire Vi voglio bene George è entrato nella nostra famiglia, grazie E voi nella mia E voi nella mia E quanti siamo raga che a me mi si è buggato tutto Samara mi ha ostato Grazie Samara Grazie, grazie, grazie Vedete che mi fa sentire in colpa Samara Se fa così perché mi fa sentire in colpa, appunto Allora Grazie mille Joe per tenerci in compagnia Le tue live fantastiche 2002, grazie raga Capito, 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 capito Chi è l'ospite? Mamma mia La connessione di Claudia è tipo Non lenta Di più Di più Perché ci sta mettendo un'ora e mezza Comunque Claudia Gran connessione Siamo in live comunque Noi ti stiamo aspettando Ti hanno stato Ti hanno stato tutti automaticamente Cioè George le tue live sono l'unico momento In cui durante la giornata E non è come In cui rido Ah bene, bene Stasera ci spacchiamo L'avete sentita Mi fa già ridere adesso Risentiamolo ancora una volta Burundi è una cosa Cioè Una cosa che dico io Strano che No veramente Pare che c'ho La connessione del Burundi Vabbè Comunque Ma appunto il tempo che si sta L'è ci sono George Quanti anni hai? Secondo voi raga Vediamo Tanto lo sapete Quanti anni ho? Il diamantone Deve vincere Spacca troppo Sì 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 Ho guardato tutte le 18 18 18 19 18 raga 18 Ne dimostri meno fra Ti prego Leggi che comunque Volevo dirti Che Aspetta raga Che Samara E Laura Hanno già detto Cosa è successo Il video L'ha pubblicato Anche la strada Su TikTok Provo di leggere Bah Non so di cosa Tu stia parlando Ciao George Come va? George Meno male che ci sei Tu sei fantastico Grazie raga Ah volevo dirvi una cosa Intanto che stiamo aspettando Claudia Parlando con voi Star Ring Light A parte la Ring Light Che ce l'ho solo di qua Quindi automaticamente Aspettate due secondi Ok adesso Visto vedermi un pochettino Maglio Volevo dirvi che Sto leggendo Tutti i direct Vostri Sto leggendo Tutte le cose Che mi inviate Su Sui Sui Commenti Sui commenti Raga Spavorate un messaggio Stavo andando in paranoia E Vi volevo dire che Sto leggendo Tutti i direct Che mi scrivete Dopo le live Sto guardando anche Tutte le persone Che mi menzionano Savona Capitale Ovvio Con chi stai in casa Con la Stardust Che tu sappia Pat fa la live Nora Che stasera Non è in live Oi ciuppi Domanda banale Come stai? Meglio Meglio Mi sono ripreso C'ho avuto un mental breakdown Sono successo Un pochettino di cose Che non raccontavo Monterò Però Meglio 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 Allora Stiamo aspettando Claudia Fai pace Con Ma è successo Qualcosa Che non potrai Rimediare No raga No Giorgio Ma io sti pure Claudia Cioè Io c'ho anche Le persone Rumene Che mi stanno seguendo In live Da quello che ho capito Voglio bene Raga Ciuppi Fino a quando stai in casa Dovrei essere fisso Adesso Intanto saluto anche le persone Che si stanno Iscrivendo al canale Adesso Tipo Peppe Lollo Aurora Ora E con chi dormi In stardust Dormo Ho una mia stanza Adesso Come adesso Ma Claudia Sta con Richard E' una domanda Che gli faremo Se avete qualche curiosità Per Claudia Faremo un po' di domande Sto aspettando Che Allora 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 Sta tardando Ma Posa screen Adesso Così Allora 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 No 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 Niente Oddio Mi senti Aspetta Parlare Ci sei? Sì Aspetta Aspetta Ok Ti giuro Non ti vedo Eh Devi attivare La telecamera Ah E qui Oddio Ok Oddio Ok Loro non ti vedono ancora La sentite? Aspettate un po' La sentite Claudia? Te non mi vedi neanche No? Aspetta un attimo Io non ti vedo Calcola Aspetta Che scrivo un messaggio E ci sono Ok Ok Allora Allora Ci sono Allora Devi aspettare Perché io C'ho ancora Un po' di fatica A usare Twitch Quindi Io giuro Ce l'ho appena scaricato Non sono capace Zero Allora Quello è Discord Da quello che ho capito Che Non voglio farti La Sì Se chiama Discord Stop Però Allora Facciamo una cosa Ragazzi Cioè sentivo parlare Però dicevo Non ti vedo Come faccio Ok ragazzi Aspettate due secondi Per due secondi Non mi vedete Perché sposto la telecamera Da Da tutte le istruzioni Che ho avuto Prima di iniziare la live Allora Webcam Disattiva Ok Voi adesso Non mi vedete Faccio Discord E vedete Claudia Non so se mi sentite Ditemi se mi sentite E dovreste vedere E dovreste vedere Anche me Oddio Ti giuro Ti sei fatto Biondo Blati Come te pia Da sta pazzia Eh Ho perso una scommessa Allora Ci vedete adesso ragazzi E tu non leggi i commenti No Vero Io no Ok top Così io Leggerò i commenti E E ti farò delle domande Intanto abbiamo delle domande Perché io ho visto Le persone che mi facevano Delle domande Su una tua Cosa sentimentale Vedendo dei tiktok Però Verso la fine Non posso di niente Cioè No no Ci può Una chicca Qualcosina Intanto volevo Non posso di niente Su Ricciardino Ecco lì È già uscito fuori il nome Ragazzi Neanche Vabbè ma Neanche due minuti di live Doc Non si può dire niente Tu lo so Allora Ma Claudia Ha la voce identica a Clea Non penso proprio ragazzi Ditemi se la Che è Clea? Clea è una che ha fatto Axe on the Beach Allora Che potremmo fare Entrare anche lei Anche lei su Twitch Più avanti Allora Ditemi una Ah devi girare il telefono Claudia Che vorrei Devo girare il telefono Devi girarlo così Oddio Aspetta Ok Così Brava E devi togliere Lo schermo Che resta fermo No Non sto a capire Scusa Allora Devi togliere questo Aspettate Due secondi Devi togliere Blocco orientamento Se non mi sbaglio C'hai l'iPhone no? Sì Hai presente il blocco Che fai in modo Che non ti si gira La telecamera? Oddio De giuro Mi sto Aspetta E no Come Questo Cla Aspetta Allora Che ci sta scritto? Come che ci sta scritto? De giuro Sto a capire No Cioè dimmi che simbolo è Ok Aspetta un attimo Aspetta un attimo Che sto andando in Rotazione automatica Ci stanno Blocco schermo Ci stanno aiutando Nei commenti Oddio Non c'è sta Cioè non c'è l'oio Sul coso Ok Rotazione schermo Cioè C'ho dublica schermo No Che dublica schermo? Eh Oddio Aspetta Questo? Oh Ce l'abbiamo fatta Ci siamo Ci sono Ci sono Che boss Aurora Aspetta aspetta un attimo Aspetta un attimo Ti blocco due secondi Aurora ti avostato Grazie mille Aurora Spero Ti ringrazio Renderò il favore Anch'io E Allora Ci siamo Mi vedi adesso? Ditemi nei commenti Ragazzi Se Vedete Claudia Bene Non la vedete laggare Perché io C'ho un altro schermo E vedo tutto a scatti Mi vedi laggare? C'è un po' Una connessione del Burundi Sono sincera Sì 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 Si vedi Allora intanto Siamo in 5000 Quindi Saluta a tutte le persone Che ci stanno seguendo in live Iniziamo con le domande Allora Premetto che Premetto Balli 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 Anche se Anche se Sarò sincero Bionda Non mi dispiacevi C'ho appuntamento giovedì Per i fammi bionda Olè Olè Quindi Calcola Mi stava a fare cresci i capelli Quando è stato Un paio di giorni fa Mi ha preso la pazienza E ho detto Vabbè Me li taglio tutti Perché tanto sotto Erano rovinati Arriva Aspetta due secondi Che chiudo la porta Sì Allora Allora Scusate Il Disguido della porta Ragazzi Giorgio Si sa che ti piacciono Le bionne Non Cioè Non ci avevo fatto caso Allora Allora Diciamo che Claudia mi conosce Abbastanza bene E Cla Cosa ne pensi Ad un botto Che non ci sentiamo Vuoi farmi qualche domanda Si Calcola Poi ti devo raccontare Un sacco di cose E Su una cosa Ti giuro C'avevi ragione Infatti Mi è dispiaciuto troppo Capiscimi Lo sai No Aspetta Rifai la domanda Cioè Rifai la cosa E ripar Ti giuro Mi dispiace troppo Una cosa Perché Avevi ragione Io sono Una testarda Cioè C'ho una Capoccia C'ho un crattere Veramente Parolacce Capiscimi Hai capito Quindi avevo ragione Hai capito Qua si tratta Di social Se non mi sbaglio Concordi con me No Ti giuro Cioè Troppo Non gli sto più A rispondere Zero È proprio Un down Vai puoi dirlo Te l'avevo detto Dillo Io te l'avevo detto Io te l'avevo detto Allora ragazzi Io prevedo Prevedo Determinate Atteggiamenti Determinate persone Ok Sì Qui è No per non di altro Perché non posso No mi dissocio No mi dissocio Perché raga Aspetta Che qua Allora Allora Comunque calcola Se ti sposti Un po' Di qua Perché sto vedendo Tipo solo il tuo naso E la tua bocca Allora Devi sapere Che non si possono dire Determinate parole Quindi devi dire Mi dissocio Innanzitutto Se non mi sbaglio E non puoi dire La parola Che hai detto prima Quindi non ripeterla Te la scrivo In Raga Non ha nulla Contro Contro Quindi non Preoccupate Aspetta 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 Ok Ah ecco Cioè Perfetto Sapevo Allora Allora Non lo sapeva ragazzi Non lo sapeva Quindi tranquilli Non vi agitate Non vi agitate Ho già fatto danni E non spostare la telecamera Troppo sotto Mi raccomando Perché Twitch funziona così È un po' È giusto È giusto Allora ragazzi Intanto Fateci qualche domanda Di qualsiasi genere Di qualsiasi genere Che mettiamo un po' Di brio Innanzitutto Volevo chiederti Ma con Con Rich Com'è? Tu fai le domande Tanto io non Rispondo No 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 Cos'è Cos'è successo? Cioè Come vi siete conosciuti? Ma Ci siamo conosciuti Ad Halloween E ho conosciuto Anche la mia migliore amica Camilla Lì ci siamo conosciuti Abbiamo cominciato ad uscire Tutti quanti insieme Ma Bass Di storico Non dico più niente Attenta alla telecamera Ok Brava Il viso Devi far vedere bene il viso Mi raccomando Non Ok Ok Allora Allora Ma Invece persone del collegio Ne senti ancora qualcuna Oltre ma Stasera Calcola Gianni Ogni tanto Alicia Ma Gli altri zero Zero proprio Zero proprio Zero Come mai? Ma Abbiamo perso i rapporti Non Oddio Ti giuro Devo farire Io non so Perché No Beh Comunque abbiamo perso i rapporti Non Eh ma Ci sarà un perché Ma In realtà Cioè Ne manco troppo Capito Cioè Sto più sulle mie E sai che io sono una persona Abbastanza Come dire Soceola Però Non lo so Questo periodo Sto abbastanza Sulle mie Allora Allora Tu invece Senti qualcuno? Io? Con chi ti è rimasto Il rapporto? Allora Diciamo che Sono rimasto Il rapporto Anch'io con Gianni E E con gli altri Ho perso un po' i rapporti Perché Diciamo Cioè L'ho detto Duecento volte Diciamo Scusate ragazzi E Ti dirò Quando prendi un percorso Sui social È difficile Mantenere rapporti Per varie cose Ragazzi Che poi vi spiegherò Più avanti Su questo lato Pure io la penso Un attimino Come te Poi C'è comunque Certi atteggiamenti Certe cose Non Su alcune persone Non è che mi siano andati Troppo giù Ecco Quindi Pure per quello Con Alcuni Io ti farò un nome Io ti farò un nome qua Perché mi sta Intartassando Che ha fatto il collegio Ha fatto il collegio Con noi Vai Dillo Io lo so tanto Qual è il nome Dai Qual è il nome Dillo No no Dillo prima di Seconda età Inizia con la A O con la R Colpo basso Ti faccio i miei complimenti Più con la A Ok Ok Non è a colpo basso Perché io non ho Non ho fatto questa domanda Ma ce la stanno facendo loro Ah ok Mi avete colpito Bravi Sono Colpo basso Ha detto Colpo basso Colpo basso Come mai Poi ti racconterò Certe cose naturalmente Mi dissocio Non le posso dire Ok 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 Ma cosa ne pensi Ti dirò Dico una cosa E poi Non mi dilungo Troppo Su questo argomento Ok Allora fermati Ragazzi Sta per dire Una chicca Di Se non avete capito Asia Se non mi sbaglio Concordi con me Sì Tra amici Non ci si comporta Così Zero proprio No Oh Ho detto tutto Abbiamo preso Stati diversi Abbiamo È successo Quello che è successo Finita là Non è stata una cosa grave Poi ti racconto Poi ti racconto Però comunque Ti ripeto Tra amici Quello Ragazzi Comunque questo è un Un inizio Allora Io ho chiamato Claudia Innanzitutto Perché mi fa piacere Era da tanto Che non la sentivo Volevo stare in compagnia Con In compagnia con lei Però io voglio sapere Qualcosina di più Di cosa Su cosa Ovviamente Del discorso Che stiamo trattando Eh no Io mi dissocio Completamente Ma proprio Niente Niente Ma proprio Niente 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 Mi fai morire Io non so perché Ragazzi La faccio morire Non so perché No Cioè Poi posti Capito Non riesco a prenderti Seriamente Come mai Non ti piacciono Non ti stanno male Sincera Favi meglio prima Non stai male ora Però non lo so Non riesco a prenderti Troppo seriamente Così Ok Va bene Ok Dopo questa Dopo questa Ragazzi Chiudiamo la live No scherzo No Ti voglio bene Lo sai Comunque Comunque Allora Leggiamo un po' di commenti Allora Comunque grazie Giorstas Non avevo nulla da fare Mi annoiavo Quindi sto qua E mi diverto Grande Allora Quanto è bella Claudia Ti stanno facendo I complimenti Due segreti del collegio Allora ragazzi Premetto che non parlavo Del collegio Da due anni E io la stessa cosa Sai quant'è che non parlo Di questo argomento? E quindi Dai Dimmi due segreti Del collegio Allora Primo Che penso che ancora Mi fanno domande Quando mi incontrano Per strada Sì è tutto vero Non è Nessuno ci diceva Cosa fare O roba del genere Tutto di capoccia nostra Un altro Oddio Quale Quale potrei dire Dinne uno te Allora Vi dico Un segreto Io Che c'era Una merenda Che non veniva Mai ripresa Verso le quattro E calcola Lo volevo dire Calcola Lo stavo Per dire Però non Non sapevo Poter dirlo Allora Diciamo che C'era la redazione Che verso le Quattro e mezzo Se non mi sbaglio Barra Cinque C'era una merenda Non ripresa Dove magari Mangiavamo un panino Col salame Un panino col tacchino Prosciutto Perché sennò Con quello che mangevamo Durante il collegio Impazzivamo Cioè Proprio muori Te mangiavi tutto Cioè era impressionante Veramente Eri una macchina da guerra Cioè regà Veramente Si faceva pure il bis Voi non c'avete idea Io rimanevo così Con la bocca aperta Guarda Dio Allora Allora Intanto sto Sto leggendo i commenti Ti faccio un'altra Allora Vediamo un po' Faccio una domanda a loro Così capiamo cosa Andiamo un po' avanti Allora Ragazzi Volete fare un Cosa penso di E facciamo dei nomi Ok Cosa penso di Gli chiediamo un po' di nomi Vediamo cosa ne pensa Sì 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 Siete sicuri Lo volete proprio Se lo volete proprio Lo facciamo Intanto mi fate anche qualche nome in chat Così Mi aiutate Ok Fatemi qualche nome in Aggiudicato Facciamo questo Fatemi qualche nome in chat E Allora Cosa pensi di Samuele Fazzi? Samuele Un pochino che non lo sento Comunque mi sta stra simpatico È un bel ragazzo E Mi ci trovo tanto bene con lui Un bravo ragazzo Roberta Zacchero Allora Niente contro di lei Quello che è successo È successo L'ho già detto Indifferente Onestamente Giulia Salemi La ragazza che è nella Stardust Ma Allora Non la conosco Carina Troppo energetica Troppo energetica E questo posso confermarlo anche io Ragazzi È sempre Sempre Gasata Pazzesco Però Io non la conosco ancora molto bene Diciamo che non ci ho parlato molto Allora Vediamo Intanto fate altri nomi raga Che pian piano li leggo Sto leggendo Allora Simone Berlini Bello Beh ragazzi Vabbè Ragazzi C'è da dirlo C'è da dirlo È un bel ragazzo Nicolò Robbiano Nicolò Robbiano Nicolò Non lo sento Pure lui Da Penso Un'era Veramente Da non penso niente Sincera Non lo sento da tanto Non ci ho più parlato Tanto non l'ho nemmeno più visto sui social Mura? Mura Non lo conosco Non mi piace L'aspetto fisico Sincera Poi ovviamente C'è questa Attenzione Non so Però Nulla da dire Attenzione ragazzi Ti faccio un'altra domanda Verresti mai in Stardust? Perché no? Perché no? Attenzione Mi sei piaciuta Cosa ne pensi Della Stardust? Attenta Allora Cioè Attenta In realtà In che senso Attenta Finché Cioè Ci sono io Quindi Attenta Allora 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 Verrei Per ritrovare il mio amichetto George Poi Cosa penso? Cioè Comunque Una bella casa Cioè Non mi sta Non è Non ci sta nessuno Che Non mi vada genio Ecco Cioè Nel senso Alla fine Non conosco nessuno Quindi Non Non avrei nulla Da dire Perciò Però Perché no Ci verrei qualche giorno Allora Ragazzi Intanto fatemi Delle domande Da farli Intanto che io Parlo un po' con lei Leggo qualche vostro commento Datemi il vostro parere Così Parlo anche con voi Nel mentre Allora Invece di me Cosa pensi? Allora George Cipilan Attenzione Dai Sono curioso Vai Allora Pure a te Non ti vedo Nella cifra di tempo Da troppo Non ci vediamo Infatti Tanto presto Salgo a Milano Tra poco Quindi si va A fare Un bel pranzetto Fuori Attenzione Mi sta Crendendo di andare A fare pranzo Fuori Ragazzi Sì Ti sto invitando Oh Shit Che penso Mi manchi Sei un bel ragazzo Pure tu Sei tanto carino Ogni tanto Sei un attimino stronzer Mi dissocio Scusate Vabbè Hai capito No Stronzo Stronzo puoi dirlo Non ti preoccupare Ah ok Sei un attimino stronzo Qualche volta Però Nel complesso Sei un bravo ragazzo Sono un bravo ragazzo Ti voglio bene Ma un po' fuori Ma un po' fuori di testa Vabbè Quello Era sottinteso Cioè Sei un pazzo Sei un folle Sono folle Follia totale Ragazzi Non ho capito Sei veramente un pazzo Tra l'altro Ho visto la macchina Troppo bella Cioè Una roba troppo seria Infatti Quando prendo la patente Pure io Tra un annetto e mezzo Due Vi voglio fare pure io La macchina tua Tutta modificata Nera Brillantinata opaca Allucinante Ma senti un po' Di TikTok cosa ne pensi Io ti vedo molte volte Ne hai portà Sì Allora TikTok Sono sincera Prima Cioè Da poco Mi sono ripartiti video Non so Penso di essere andata In shadow banner Non so Però non mi andavano tanto Adesso mi sono ripartiti Un attimino E TikTok Penso che Secondo me Tra un po' di tempo Tra qualche annetto Non lo so Aspetta Aspetta un attimo Che qua devo Visarvi Ragazzi No perché Ho sentito urlare A casa Vieni Vieni a salutare Io Ciao 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 Bella Come stai A bella Tutto a posto A bella Io niente Tutto a posto Ti saluti Saluta No ha detto Ciao Piacere Prello Aspetta Aspetta Che qua Sta imbarcando Un botto di gente Saluta 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 Vieni Vieni Ciao Ciao La conosci La conosci Se li riconoscete già Non lo so No Chi è Ciao Piacere Piacere Si saluta Vuoi restare un po' con me Niente Puoi chiudere la porta Niente C'è Simone che si è innamorato Stasera Di chi Di Claudia Mi sembra di te No Abbiamo una nuova scippa Allora È già impegnata È già impegnata Attenzione È già impegnata Non lo so Non dico niente Forse sì Forse no Oh Mamma mia Cosa sta uscendo fuori Questa sera Forse sì Forse no Non dico niente L'ho detto Mi dissocio Vabbè Non mettiamo in difficoltà Poi ti racconto in direct Non mettiamo in difficoltà Spazzato Guardami un attimo Mi sento male Oddio C'è diventato un po' rossiccia No no Se non lo so Perché sono stata al sole Ma vi siete mai visti? No A lei no Calcola no No Non ho forse mai scambiato un messaggio Ah bene bene Aspetta Ci siamo scambiati un messaggio Sì Aia Certo Mi sono scambiato un messaggio Che gossip ragazzi Allora Intanto Cla Ti voglio chiedere una cosa Con chi mi sciperesti? Che me lo stanno chiedendo qua Nei commenti Allora Sai che non lo so? Oh Guarda che c'è qua Guarda che c'è qua Il 26 maggio Scomparsa Scomparsa E non ha più risposto Eeeh Quella che fa pure la faccia Di quella Non ci siamo musici Eeeh Ragazzi Ma cosa sta uscendo fuori stasera? Pensavo fosse una live tranquilla Ma So Ma quindi Sto tuo nuovo tippello Eh? Eh? No Sto nuovo tippello Che stiamo facendo vedere Carino eh Ma chi? Eeeh Com'è che si chiama? Richard Richard Carino Carino Eh non so se è il mio tippello Non puoi farmi Cioè non incascherò in questi trenelli Guarda che bel tippello Guarda che bel tipptoque No 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 Guarda che bel tipp19 È bella sta musica ecco eh Si From Attento che mi bannano i switched team Nel balbama Eeeh Aia Aia Ragazzi l'altra volta fratino ha messo una canzone se la metti così così no vabbè ragazzi stiamo scherzando cosa sta succedendo cosa sta succedendo panico io vedo un bacio alla fine quasi un bacio sono solo caduti sono solo caduti c'è scritto siete solo caduti? siamo quasi caduti si si no no non ricominciate basta zio basta quelle che tieni nascoste ho tempo di farlo secondo te stai facendo una domanda a ciupi i gattini del video stupendi aspetta un attimo siccome mi sto sentendo con una ragazza gli devo chiedere questa cosa a ciupi ma secondo te 5 anni di differenza sono tanti tra una ragazza e un ragazzo che simpatico guarda sei andato? sto scherzando Cla ti odio te lo giuro no sto scherzando però davvero vi togliete 5 anni eh? togliete 5 anni allora uno non siamo fidanzati secondo io si stanno solo sentendo ragazzi io pure si stanno solo sentendo ma no non c'è non confermo nemmeno qui no lo so ma infatti cioè tranquilli cioè io e Giorgio siamo amici ogni tanto ci diamo un bacio a stampo tra amici si usa questa cosa no mi dissocio no mi dissocio era per dire un abbraccio era per dire che gli amici non si diamo un bacio a stampo chi ti dice che ci siamo dati un bacio? ma io mi ricordo che una determinata persona tanto tempo fa diceva è piccola è piccola ma sai che non mi ricordo chi è? oddio penso che inizi con la G lo sai? inizia con la G e finisce con la E lo conosci? lo conosci te? ma lui non ha visto il collegio non può eh lui no infatti no G se finisce con la E di il mio nome G E C frate G E G lo stanno scrivendo in commento e ci sono solo tre anni di differenza due e mezzo però diciamo che adesso siamo cresciuti tutti ragazzi ma guarda hai fatto il collegio insieme a me eh? il collegio è lei che l'ha fatto si l'ha fatto con me il quattro allora raga non capisco ma che cosa ridi tu? che ti fai ridere la nostra faccia che guarda e rida sotto il naso e non so che dire dai leggi qualche commento leggo qualche commento ma quindi sono fidanzati si stanno solo sentendo ragazzi lo capisco dalla faccia di Claudia no 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 guarda guarda ti stai guarda siete siete pronti? vi faccio la io non riesco a fare serie con te devi capire questo quindi allora ragazzi li faccio li faccio la domanda vediamo secondo vediamo se ho ragione allora Claudia non c'è il fazio Claudia ti stai sentendo con Riccio no non lo so no no non c'è no non c'è no non lo so ho detto di sì quindi ragazzi ora non cantarei vittoria no no si no e vince no 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 dai Claudia no dai lo sanno tutti quanto tredici sto a morire ragazzi mi sto scassando anch'io da ridere però mi senti male tu non hai capito li voglio bene li voglio bene no no a Miriu a Miriu rispondi a Miriu ship tra Claudia e Simone vieni Simone allora ma se si sente con Rich allora Claudia cosa ne pensi di Simone simpatico oddio ma cos'è che io non so qua ma non l'ho fatto neanche apposta ragazzi vieni vieni in diretta con me no mi sento male raga mi sto sentendo male anch'io impressionante comunque nascono amore i ragazzi intanto io parlo con voi e loro tanti amori nascono così bravo no bravo bravo chi è Rich? chi è Rich? non lo so neanche io ragazzi cioè non nego di averlo già visto nei TikTok con Claudia ma io l'ho conosciuto invece di presenza di presenza? sì di persona zio di presenza di persona allora ragazzi fateci qualche domanda come sei stanca Claudia sei stanca sei fidanzato? io? una allora diciamo che non sono né fidanzato e non mi interessa nessuno vorresti avere una ragazza? sì sei in cerca? predatore? allora sono sempre stato in cerca non ce l'ho mai avuta quindi non sono in cerca spero che arrivi che risposta non te l'aspettavi non te l'aspettavi non te l'aspettavi allora da quanto si conoscono Claudia e Simone? da quanto si conoscono? da quanto si conoscono? ce l'ho dice subito ce l'ho dice subito ce l'ho dice subito ragazzi intanto saluto le nuove persone che ci stanno seguendo Diego, Loris, Ilchi Supremo un anno fa ciao Mattia ciao Olivio ciao Samuele ciao Caterlina ciao Chi ciao Fra ciao Alice ciao Andrea ciao Massi che bellina ciao Federico che bellina aia 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 qua c'è una domanda cattivante GGGG ragazzi GGGG cosa pensi di Gianmarco Rottaro? eh? Gianmarco Rottaro timpatico bravo ragazzo Tancredi Galli lui beh ragazzo è simpatico pure lui li hai mai conosciuti? sì ci ho parlato qualche volta mi senti? no sì 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 GGGG ci ho parlato qualche volta ah ci hai parlato ma sei ancora nella one shot? yes ciao Enrico ciao Danluco allora 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 cosa pensi di Twitch? cosa pensi di parlare in diretta? cosa pensi di questo nuovo allora non ci sono cioè è la prima volta che sono è Twitch no? questo ok è la prima volta che ci entro non non ci avevo mai pensato poi ma c'è diretti su Instagram non ne sto facendo zero quindi però ci sto allora io adesso andrò su TikTok ragazzi a vedere il TikTok di Claudia io ero sicura cioè vi devi credere io me lo sentivo che te facevi una cosa del genere ma che che cos'ha fratino? ma com'è? cosa ho in testo? aspettate due secondi arrivo ragazzi vieni inizio io non ho lasciato da sola guarda aspetta sì ok scusate raga è successo un casino in casa scusate due secondi scusate che l'ho lasciata da sola le donne non si lasciano mai da sole scusate che di eh no è giusto così scusate due secondi aspettate un minuto che stanza allora 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 che è successo un casino in allora stardust ok ci sono scusate raga eh allora poverina no dovevi dovevi andare a vedere TikTok mia ah è vero vero meglio se mi stavo zitta ecco vero vero dobbiamo dobbiamo guardare i TikTok di Claudia così andiamo a vedere Claudia Claudia George gliela 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 dedichi una bella poesia Claudia no ti prego sono troppo curiosa lo devi fare ci sono cose che non sai che non si spiega una poesia o una canzone ma George si si pure te no tommace no invece lo fai vedi si si sono troppo curiosa ma ragazzi wow mamma mia mamma mia aspettate ma quindi da quant'è che vi state da quant'è che vi state sentendo tu e Rich non rispondo non ci stiamo sentendo dai su no no allora qua mi dice la mia fanpage che se sei single che è la mia fanpage del piercing alla lingua lui si propone per portarti fuori a cena chi il piercing alla lingua di George Chupilan che è una mia fanpage ah mi sembra il tuo piercing alla portata a cena no tu mi dava a pranzo fuori accetti o rifiuti quando salgo a Milano ragazzi devo accettare o rifiutare facciamo scegliere la chat fai un sottaggio un sottaggio eh non posso farli non posso farli ancora ragazzi perché sono come dicono di non accettare chiedi a Ricci che bugiardo che sei solo perché io non posso non accettare non accettare non accettare non accettare non accettare che bugiardo bugia no ci arriva a stavare chiusi ok ok no 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 hanno detto accetta accetta quindi mi toccherà venire a pranzo a cena con Claudia mi toccherà come se fosse come se volessi darmi il contentito no ma guarda too much Ricci dove lo lasci scusa la finisci per favore non sgraviamo più dai non si possono ancora fare i sondaggi Simone dicono ed è vero eh sì perché non è ancora sto cattino non è affiliato allora reagite alle backstories del collegio ragazzi non lo posso fare se non l'avrei fatto volentieri aspettate provo a fare una cosa cattura schermo cresciamo insieme no te giuro non lo fa col mio te giuramo perché cioè non mettere la mia backstories ti prego canta lì barking con la lingua I'm not thinking from barking 7 am in the morning she's calling cosa ne pensi del trend del piercing alla lingua io in the morning she's calling allora il più carino della caserma vai no mi associo non rispondo no devi dirlo devi dirlo no il più carino della caserma ragazzi volete il più carino della caserma volete che vi dica il più carino della caserma dite di no dite di no il più carino della caserma dai su dite di no tutti sì 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 ti tocca vai il più carino tu e Andrea l'hai voluto io mi sono dissociata in partenza colpa tua guardami guarda ha ragione tu Andrea ti era bello lì oltre a te e Andrea ah no c'erano pure i gemelli che sono quelle carini e poi basta quindi io o Andrea tutte e due perché tu compreso no non mi guarda io così guarda quindi voglio la risposta definitiva no tutte e due risposta definitiva risposta Andrea chi rosa fratino fratino risposta definitiva no oh cla fratino o George non lo rispondo no no sono curioso vabbè no 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 ti tocca rispondere ma io non saprei guarda io in realtà potrei pure rimanere così dai su no sono curiosi quelli quelli in chat li lasceremo col dubbio secondo voi chi è ragazzi secondo voi chi tra me Andrea e chi preferisce vai indovinate voi io vi dico sì o no non si capisce sai sia Andrea sia George qua dicono Andre ma buonasera quindi voglio la risposta poi ti presenterò un ospite che viene in live con noi no no dai che cazzo devo proprio sì devo proprio sì sei sicuro vuoi farmi fare questa figura vai tu guardalo la coppa del nonno cosa pensi di Laura del Fabrizio componente della casa ragazza non la conosco mi è capitata qualche volta né per te carina carina intanto ti presento un nuovo ospite un nuovissimo ospite con noi ma nelle mie live è la più conosciuta perché le fa sempre insieme a me ok le fa sempre insieme a me ciao ciao piacere dimmi che non l'hai mai vista no non l'ho mai vista non ci credo non hai mai visto lei che fa gli scherzi al papà no oddio sei quella che fa gli scherzi a tuo padre eh sì che cosa che non ti ho visto mi sarò vista i tuoi video un sacco di volte troppo divertente Simo no vero vero Simo non diciamoci stronzate a me sembrava una dello staff ti sto giurando chi che gli sembrava una dello staff quando è venuto in casa Simo ma no vabbè no no ciao rega ciao ciao rega ciao rega e lei è Jacqueline ciao rega ciao allora allora dai facciamoci fagli qualche tu hai visto il collegio sì il nostro anche eh certo allora fai fai qualche domanda che qua davanti c'è due collegi no adesso non lo so le domande devo pensarci pensa a qualche domanda nel mentre tu intervieni sei la cattiva del gruppo ok di intervenire con domande cattive ok io è il buono sei tu io sono il buono poliziotto buono e lei la cattiva no lei è il cattivo io il buono e lui il figo però non so esattamente ok va bene non so esattamente cosa avete detto nella live delle domande ma allora Jacqueline cosa pensi Claudia oddio io non me la ricordo sinceramente no mi ricordo il suo viso ma non mi ricordo cioè non mi ricordo tutto quello che è successo ma anche di te Giorgio non è che mi ricordo di dire sono passati due anni mi ricordo della vostra faccia ma non mi ricordo esattamente cosa avete fatto al collegio chi ti ha detto la cosa più schifosa che avete mangiato al collegio la cosa più schifosa che abbiamo mangiato al collegio è che schifo no io te lo dico sincero la trippa no la trippa mi piaceva il cervello raga faceva veramente veramente cagare non è vero non ti sei mai mangiato la testa al forno d'agnello ho mangiato tutto io la testa d'agnello al forno è troppo buona pure il cervello allora vi racconto una cosa vi racconto una cosa ragazzi che non è stata mai mandata in onda io ho mangiato tutti i piatti e lei può confermare ho perso perché non sono riuscito a finire l'orata perché c'era le spine ci ho mangiato tutti i piatti dal primo all'ultimo con bis no è impressionante ero l'unico ad aver mangiato tutto ho perso perché non sono riuscito a finire l'orata perché c'era le spine ed erano tutto lì incasinato però il cervello raga era quello che faceva più schifo cioè come tu non abbia sboccato veramente le lische sì scusate anche le spine vabbè 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 dettagli dettagli di Giorgia in che senso no a Claudia non mi ha chiesto nome no in qualsiasi in qualsiasi caso ragazzi in che senso hai perso in che senso hai perso perso perché dovevo essere il primo di tutte le edizioni a mangiare tutto non c'era riuscito ancora nessuno e non sono riuscito a finire l'orata e vabbè vabbè però sei stato fida di comunque l'unico che si è mangiato tutto quello che ci stava tutto quindi da una parte vittima un commento vai no 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 non si può dire cioè non so perché non l'abbiano bannato però che commento mi dicono bella la felpa dove l'hai presa dove l'ho presa ma bella la felpa di chi ragazzi la mia ovviamente tanto stiamo guardando i commenti Cla te adesso sei a casa yes a Roma yes eri in giro calcola sì sono tornata a casa tipo alle 9 e mezza sono andata a vedere una partita di caccio insieme a Rich coniata di un mio amico insieme a Rich sei andata a vederla no no Rich sta ad ossia io sto un pochino lontano domani ci vediamo però non cominciare io ho detto quello che dovevo dire non ho confermato nulla ho una domanda cattiva vai claudia claudia te lo faresti george no ok ok abbiamo già capito quindi no ma claudia è una che risponde non si tira indietro no io non c'ho obiettivo la lingua sì me lo farei ma gg soldato ma ah qua sta esplodendo la chat allora comunque claudia non ha risposto a una domanda che era tra george e fratino sì ragazzi ha risposto e puoi ripeterlo per favore che si era staccata la live in quel momento ci godo era destino non lo ripeterò un'altra volta era destino era destino era destino altra domanda cattiva vai vai george ti faresti claudia ma tu devi farla a lei non a me no no adesso rispondi rispondi vai vai tu devi farla a lei non a me no no vai vai però qua guarda guarda quanti stanno scrivendo eh ma ragazzi non posso rispondi no no adesso rispondi vi spiego perché finché risponda una persona ci sarà sempre l'altro che non sa cosa dice se rispondo anch'io succede il puttiferio giusto no no rispondi vai 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 te lo dirò in su whatsapp no no una cosa allora dalla reazione dobbiamo capire dalla reazione allora lui dovrebbe inviare un messaggio su whatsapp dalla reazione gli altri vogliono capire se è uno ok chi fai una reazione allora non devi anzi no tu scriviglielo se vuoi lui sti scrive o si o no tu devi solo reagire non fare tipo mi ha detto si mi ha detto no ok vai io verifico no ma scusami ma c'è il microfono ragazzi cosa li scriviamo cosa li scriviamo ragazzi voglio commenti no no però devi rispondere non dai commenti ragazzi ragazzi qui poi parte un casino no non vale sta risposta sì che vale si che vale ragazzi secondo voi bravi 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 no o si o no no si no mi metti troppo in difficoltà io avrei risposto cbc no tu gente mi hai messo per un'ora e mezza in difficoltà per una volta che te ci metto anzi ti ci ha messo lei lei che non doveva farlo non avevo capito dai 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 giusto sbagliato 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 no ragazzi non ho risposto né sì né no fate delle domande se devo rispondere sinceramente glielo dirò su whatsapp perché sennò cioè impazziscono tutti ne ho un'altra ne ho un'altra cattiva vai vai claudia ammetti che ricotta di giorgia al collegio ora è cattivissima ti lo ammetto ma si sapeva cioè che ero cotta di lui ok e io ammetto che era una ragazza molto carina solo che era troppo piccola per me e ora per poco diciamo che CR cosa avresti da dire dai dillo rich dimmi il numero di rich che crocchiamo salvatemi ragazzi non mandate in paranoia me allora 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 ne ho un'altra vai claudia chi è il più carino della casa ma della stardust si si suppone di si ok ne ho due vai due tre li metti in classifica vai sono curioso no classifica no mi dissocio completamente dico i tre giorgia andrea e padrizio eppure Gianluca come Gianluca chi non mi cadere in basso no Molino ma si è un figo della madonna grazie nei commenti vi amo ragazzi una domanda una domanda scomoda Simo facciamola facciamola la faccio io Simo ti faresti Claudia no vabbè cioè allora che è che ma sei 2005 tu 2001 beh allora fai che ci ne diamo quattro anni giusto cioè no ma non pensare l'età esteticamente te la faresti dipende in quale situazione no devi rispondere secco esteticamente non pensare all'età proprio così dipende in quale situazione zio esteticamente in che situazione te la faresti per capirci ma infatti sì poi ci mi ha senso tipo tipo se sei il discoteco briaco allora magari cioè nel contesto di disco sì però che ne so ci badere per qualsiasi cosa non lo so ah ok sì 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 dai sì ha detto sì ha detto di sì ragazzi però mi ha l'età mi arresta è il minorenno io ben attento quello che dici che siamo su twitch ma io ho paura non ho più su twitch ma io ho paura vai ne ho un'altra Claudia come hai reagito quando hai visto Giorgio con Asia sapendo che ti piaceva prego rispondi tanto saluto Andre che si appena quella è stata una delle cose che mi ha dato fastidio e in cui in un'amicizia non si fa ma poi aveva chiarito e poi sono successe altre cose al di fuori sì esatto ok Claudia tu ti faresti Simo? ti faresti Simo? non ti dico sincera da ubriaca da sobria non lo so ok io gli avrei menato a lei però grande giustissimo no no ragazzi con le mani con le mani sì sì con le mani no io stavo leggendo un altro commento comunque stavo dicendo ragazzi con le mani non si risolve nulla parlando si risolve tutto allora e ridono e ridono no io ho letto un commento che non lo leggo perché sarei troppo cattivo Jacqueline appunto infatti lo sto leggendo no no io no io non rispondo allora fermi no basta ragazzi con domande a meno che di difficoltà raga perché io queste cose non rispondo secondo te no leggilo no ragazzi i due più belli della casa sì un secondo devo pensare allora il primo ce l'ho lo so già ed è George però il secondo non ci ho mai pensato non ho un secondo non ho un secondo no perché c'è Giallo posso darti un abbraccio c'è Giallo Simo anche molto carino chi c'è chi c'è non c'è non c'è non c'è Giallo in quanti siete in Stardust una quindicina una ventina non ci siamo mai contati siamo una ventina Ciuppi soddisfatto fa piacere raga fa piacere beh Ciuppi è bello comunque non si può dire niente esteticamente parlando perché caratterialmente sei top ah minchia mi aspettavo no 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 caratterialmente è bello bisogna dire che George in casa è il mio bestie quindi cioè non posso dire niente di cattivo siamo best friends salvi la diretta sì raga mi spiace per l'altra non so se sei salvata o ci sono le clip perché era era una bella diretta allora 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 ci chiedono qua come ci organizziamo per il pranzo eccetera ragazzi ci organizziamo che cuciniamo e mangiamo ti piacerebbe fare una vita in stanza cioè stare proprio in una casa con altre persone Claudia ci siamo ma perché no cioè ci starebbe fare una cosa figa è figo sì è vero è figo è figo dipende con chi sì allora si è salvata l'altra mi dicono si è salvata pure l'altra top top ragazzi perché mi si è spenta così a caso ci sono rimasto anche abbastanza male comunque voglio salutare adesso farò un discorsetto di un minuto neanche quindi scusami se eh allora ragazzi premetto che vi voglio un bene dell'anima eh perché sta sento l'eco e volevo ringraziarvi raga sentite l'eco anche voi se mi allontano si sente l'eco ciao ragazzi no vabbè si sente l'eco raga sentite l'eco si sente l'eco si sente l'eco adesso adesso non si dovrebbe sentire ora no ora no cazzo come mai senti l'eco telefono dove hai il telefono là sotto no non c'entra niente ma adesso no ok perfetto ora no ora no ora non si sente raga ok perfetto comunque voglio ringraziare tutte le persone che sono in diretta vogliono bene dell'anima e mi fa stra piacere che siamo qua parliamo insieme e mi fa anche piacere che Claudia ovviamente ha accettato e è con noi in live non la sentivo da tanto 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 tempo io dal 23 maggio io da quando siamo usciti dal collegio no scherzo ci siamo sentiti anche dopo allora intanto fateci a posa screen ragazzi andrò a vedere tutte le tutte le menzioni nelle storie e ovviamente guarderò quasi tutti i direct se ci riesco ci riesco ma perché si sente allora 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 anche io ho questa fissa allora cosa pensi di Yuri Pennisi di Claudia beh ragazzo fisicamente ma di far non è proprio il mio tipo non è il suo tipo abbiamo capito odia i miei capelli allora qualche altra domanda salvi la diretta sì ragazzi la salvo domani siamo in live di nuovo alle 22 vediamo chi ci sarà domani in live di Antonio Medugno cosa ne pensi che se c'è un bel pensiero te lo faccio salutare domani se vuoi fare un saltino in live con noi oddio chi è Antonio Modugno scusa non Medugno Medugno Modugno vabbè Antonio che io mi confondo sempre col nome un figo pazzesco eh l'ho sentito col nome se è quello che penso io è un bel tipo un bel tipo è un gran figo pure napoletano le risposte quando non conosci una persona allora è un bel tipo un bel tipo allora dai un voto al collegio da 1 a 10 Claudia quello che abbiamo cioè in generale il collegio in generale sì oh no madonna 7 ok invece cosa pensi della nuova edizione ah ho capito no ma non mi piace allora onestamente non me la so vista cioè mi sono vista tipo mezz'ora di una puntata e ci sono alcuni che mi stanno simpatici altri che non mi vanno a genio però il più fico ma allora se devo essere sincera non ci sta nessuno che mi ispiri così tanto però il più carino è Davide che lo saluto fra un po' sarà in live non oggi ma verrà anche lui in live con noi Davide Vavalà li vogliono bene dell'anima è l'unico con cui ho stretto del collegio 5 andiamo stra stra d'accordo Claudia è tanto alto Giorgio sono alto Claudia è altissimo raga cioè non ve l'aspettate è un colosso è veramente alto io non me l'aspettavo così alto quando sono venuta in ausa nonna secondo me arriva 1,90 lo sai no 1,90 no quanto sei alto 1,85 vabbè può essere alti 2-3 cm cresci secondo me no buona è altissimo oddio dai però sono belli ragazzi alti pensa 1,90 si no quello si assolutamente Claudia preferisci i bori o i pariolini potete spiegare esattamente la differenza allora i bori sono tutti oh bello di chicco tutti che ti quasi capito tutti che si vestono oddio il proprio rozzo mi gratta voi eh rozzo che cos'è cioè sento un rumore strano grezzi i ragazzi grezzi invece pariolini sono quelli tutti perfettini però nessuno dei due un avviadimento come si chiama gratta Giorgia sì perché Simo usa il telefono no basta non gratta più gratta ancora ragazzi gratta sta grattando in realtà non c'è un nome che definisca la via di mezzo tra boro e fariolino aspetta no no ok non sto più grattando allora la cosa la cosa un po' bruttina è che non possiamo fare la reaction perché non mi sono messo cioè non mi sono riuscito a mettere d'accordo per farmi spiegare bene per fare la reaction ma la prossima volta faremo le reaction in live cioè noi due così con altre persone proprio al cattura schermo a tiktok così chi c'è vicino a claudia nel letto nessuno chi c'è vicino a claudia nel letto il fratello il suo fratello mamma mia me lo ricordo è rimasto uguale ancora a cattivello come era prima è una peste cioè ti non c'è idea a parte che si è rasato tutta la testa cioè ti ricordi che c'aveva i capelli lunghi pelato eh pelato un boriolino cosa ne pensi che ho aperto twitch secondo te ci sto mi ci vedi su twitch sì mi ci vedi sì io ho sempre avuto fiducia in te vero ragazzi questo concordo mi ha sempre detto allora cosa pensi cambiamo discorso subito che stiamo lì cosa pensi di Davide Moccia allora oddio no te giù cioè io devo raccontare una cosa comunque è un bel ragazzo e si impagno dai allora qua dico una cosa e voglio smentirla Giorgio ti fai i soldi si fai i soldi no raga no magari l'immagine il personaggio che voi pensate che guadagno chissà che cosa ma no cioè prendo come una persona normalissima allora se no ve lo direi tranquillamente non mi sembra il caso di parlare di numeri ma ci sarà anche un momento in cui dirò veramente tutto allora guarderai il collegio 6 allora io vi dico il collegio 5 ho guardato un po' di puntate ma perché a me piace come a me è sempre piaciuto anche prima l'ho fatto scassare da ridere io lo guardavo prima di farlo quindi sì ho guardato qualche puntata e penso che guarderò anche il 6 non sono faccio il programma dici che lo fanno sì sì faranno anche il 6 ragazzi sono molto cioè secondo me il 90% faranno anche il 6 state attenti per i casting perché dovrebbero arrivare adesso se non mi sbaglio fra un mesetto sì o adesso maggio aprile anche aprile io l'ho fatto aprile maggio adesso no no li fanno adesso no raga certe domande il più bello della The Fouse Simone prendi solamente 9000 euro al mese magari ragazzi allora da dove bisogna iscriversi dei casting basta che andate sul sito magnoglia sul sito della magnoglia sì sì magnoglia vi iscriverla tantissimo tempo che io non guardo più un casting c'è veramente tanto te hai qualche programma hai qualche qualche programma cioè hai qualche hai programmi per il futuro cosa vuoi cosa vorresti fare calcola allora la mia cioè idea per il futuro sarebbe iniziare come modella o comunque entrare nel mondo della moda e poi aprire una linea cioè un mio brand mi ispiro abbastanza a Kylie Jenner bello ragazzi cosa ne pensate nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di quello che vorrebbe fare Claudia intanto allora quando il grande fratello George al più presto possibile voglio quando c'è 5 la casa voglio fare il casting per uomini e donne uomini e donne no ma non mi fa impazzire no sai che io invece a te lì dentro ti ci vedo chissà perché come tronista perché perché questa no no ti fidi secondo me ci staresti perché hai questa idea di me non lo so però secondo me ci staresti bene cioè dentro al programma ti ringrazio va a piacere anche se non penso che lo farò mai secondo me invece ci sta Maria De Filippi te corteggia sarò io a corteggiare Maria De Filippi ragazzi donna con una testa assurda strastima io la amo quella donna troppo brava strastima ragazzi d'accordo allora ma il collegio può essere per solo se fate un'inscrizione tra i primi 200 tipo no ragazzi non c'entra niente voi buttate il casting cioè inviate quello che dovete inviare poi se se avete fortuna io ho sempre detto che bisogna avere fortuna a culo per essere chiamati dal casting poi quando arrivi al casting lì è tutta bravura della persona è un bicchierino d'acqua non farebbe male prendiamo un bicchierino d'acqua eh prendiamo un bicchierino d'acqua niente ha detto che non vuole portare il bicchierino d'acqua vabbè devo seguire sopra ma perché la crema cosa hai fatto hai fatto l'irritazione in faccio guarda l'irritazione ragazzi che hai fatto una dermatite poi ti sei tutto rosso una dermatite si vuole ruota allora facciamo una cosa ho provato a fare una tipologia di trencia non ho creato io mi ho provato a farlo e ti toccherà farlo a me si va bene dipende che trend fammi vedere eh devi guardarlo sul tuo telefono ma te lo guarderai dopo sennò ok l'hai già postato su tiktok si ok allora allora tanto mi è arrivando ma però continuiamo con le domande scomode eh vai raga allora fatemi delle domande scomode da fare puoi chiudere la porta sia a ciupi sia a claudio Giorgio ma quando è che ti tagli i capelli fra poco raga ho parlato col parrucchiere però anche non so ti rimani così biondo prunati no? eh no li schiarisci ancora figo ancora più biondo? io io non ero biondo così eh io ero bianco cosa vuol dire che toga Jack? cos'è toga? non ho la più palida idea io direi fatti castano no oppure un castano più chiaro no come stavi prima no secondo me così sta meglio sembra più grande dici? mmm non so sai allora c'ho più voglia il posto di Jacqueline non puoi non puoi non puoi no scherzo scherzo raga no che domande ragazzi no raga domande scomode ma fino a una certa voglio dire io già mi immagino domande che staranno facendo no come si fa a entrare nella casa ragazzi non siamo noi a deciderlo ci hanno chiamato anche noi quindi penso che un giorno lo spiegheranno intanto volevo salutare tutte le persone che sono entrate adesso e vorrei essere ciuppi mi fa piacere questa cosa allora sono una persona che dice che vorrebbe essere ta allora allora ah che sono simpatica vuol dire ah che sei simpatica che sei simpatica bene 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 ma io non vedo l'ora che arrivi giovedì che ritorno bionda bionda tutta no mi faccio il mi faccio il balayage no dopo mando la foto dopo mando la foto su whatsapp a tutti figo figo e ve lo faremo vedere allora claio devo staccare la live e la inizierò anche domani alle 22 in caso ci sentiamo e faremo un saltino a salutare le persone ragazzi io devo staccare adesso e claudia voto tenetevi tutte le domani e tutte le domande pronte per domani vi voglio veramente veramente bene facciamo l'ultimo screen anche io vi mando un salutone notte a tutti ragazzi buonanotte buona scuola domani buonanotte raga e buona scuola ti sentiamo moltissimo su whatsapp a te va bene volevo ringraziare anche tutte le persone che ci hanno iniziato a seguire stasera vi voglio bene spero che poi quello che vi porterò più avanti vi piaccia perché fai casino era georgia che la stavano inseguendo per le patatine fatto sta buonanotte a tutti ragazzi ciao ciao ciao